Care concittadine e cari concittadini, in qualità direttore dell'Università del Piemonte Orientale ho la responsabilità di un'intera comunità. Come medico e direttore di pronto soccorso ho affrontato la pandemia dalla prima linea. Sento perciò il dovere di esortarvi ad aderire alla campagna di vaccinazioni in corso. L'atto di vaccinarsi per ognuno di noi oltre ad essere un'opportunità costituisce una responsabilità civile e morale. Un gesto semplice e doveroso che protegge noi stessi e soprattutto i più deboli. Non esitiamo dunque, vacciniamoci!